La cooperativa Cilento Servizi, in qualità di delegata del Consorzio di Bonifica Velia per la gestione dell'iniziativa, è lieta di invitarvi alla cerimonia conclusiva del concorso didattico Il Valore dell'Acqua, che si terrà lunedì 30 maggio presso l'Oasi Fiume Alento a partire dalle ore 10. Il concorso, giunta alla sua seconda edizione, è promosso dal Consorzio di Bonifica Velia. Quest'anno ben 17 scuole vi hanno partecipato per un totale di oltre 600 alunni coinvolti. Agli alunni degli istituti scolastici del territorio, suddivisi per classi, è stato richiesto di ideare un progetto efficace rivolto alla promozione e valorizzazione dell'Oasi Fiume Alento e alla scrittura di una sceneggiatura per realizzare un fumetto ed un mini documentario ambientati nell'Oasi. I numerosi elaborati pervenuti sono stati valutati da una commissione tecnica, formata sia da rappresentanti degli enti promotori che dalla regione Campania, dall'università e dalle associazioni ambientali più rappresentative sul territorio a livello nazionale, che ha operato con particolare meticolosità all'insegna dell'oggettiva analisi di tutti i contenuti progettuali, apprezzandone nello specifico l'impegno posto dai docenti nel promuovere i lavori di gruppo e nel coordinare l'attività dei ragazzi nello sviluppo del tema, ritenendo in sintesi che tutti i prodotti sono da considerare degni di nota, seppur con differenze di natura quantitativa. La commissione, nel corso della cerimonia di premiazione, assegnerà un premio del valore di 500 euro alle classi autrici dei lavori vincitori delle rispettive categorie e un premio di ugual valore ai docenti referenti. Verranno rilasciate inoltre i premi del valore di 250 euro e targhe di merito ai lavori ritenuti di particolare interesse dalla commissione stessa. I lavori verranno presentati al pubblico attraverso una mostra itinerante allestita presso il complesso oasi Fiume Alento. Al termine della cerimonia è previsto un aperitivo per tutti i partecipanti.